mi ha fatto male sa sono contento stami bene a sentire alcuni quando mi prendono per il culo a me io divendo una bestia feroce mi si rigidisce tutta la cartillagine di questa mano destra e sono capace di tutto diventa come una lama d'acciaio io ti do una botte che ti spezzo la vertebra della carotide capito quando è vera la madonna dell'ingoroneta ti faccio finire sulla sedia a rotelle e adesso stami bene a sentire sfronto commissario si è fatto male no a questo punto io ti ammazzo si ti ammazzo ti devo ammazzare parla parla parla